Il nostro viaggio attraverso la nostra bella Italia ci porta a Fiuggi, denominata Anticoli di Campagna fino al 1911. È una cittadina di circa 10.000 abitanti nella provincia di Frosinone, nel Lazio, ed è un rinomato centro turistico termale della Ciociaria, costituendo una destinazione ideale per vacanze che vogliono unire la quiete e il relax dei paesaggi naturali con il benessere dei trattamenti termali di Fiuggi Terme. Città antica ed affascinante, ricca di monumenti racchiusi nel suo borgo medievale e che conserva antichi palazzi padronali, chiese d'epoca romana, viuzze strette e piazzetti di grande bellezza. Fiuggi sorge nell'incanto della Ciociaria, antica terra di tradizioni nota per la sua cucina tipica e per le sue chiese ed abbazie, tra le quali quella di Monte Cassino è la più celebre, con i suoi paesaggi montani e la sua variegata vegetazione. La parte alta della città è caratterizzata da un dedalo di stradine e piazzette nelle quali è possibile immergersi nel fascino della ricca storia della regione. Nella chiesa di San Biagio Martire si conservano opere di pregio, quali un quadro del Cavaliere d'Arpino, un'acqua santiera formata da un capitello romanico e un affresco della Vergine con Bambino della scuola di Giotto, mentre due famosi busti in argento dei due santi patroni, San Biagio e San Rocco, si trovano nella collegiata di San Pietro. 15.000 posti letto ed ogni comfort per il turista caratterizzano invece la parte bassa della città, quella delle terme, dove nella fonte di Bonifacio VIII e in quella articolana si raccolgono le preziose acque oligominerali di Fiuggi, famose per la loro proprietà terapeutica, come apparentemente riconosciuta da numerose autorità mediche. Indicate per la cura e la prevenzione della calcolosi renale, della gotta e dei varie infezioni delle vie urinarie, vennero prescritte anche a Papa Bonifacio VIII, che ne trasse immediato giovamento, e a Michelangelo per placare il mal di pietra di cui soffriva. Oggi Fiuggi è diventato un centro attrezzatissimo anche per il relax e lo sport, con campi da golf e da tennis, piscine, maneggio, tiro con l'arco, piste di mountain bike e minigolf. Shopping, gallerie d'arte e aste animano inoltre alla sera le belle vie della città. Ricordiamo che potete rivedere questo appuntamento ovviamente sul canale YouTube e anche sul nostro canale tematico Bella Italia. Al prossimo appuntamento! Noi siamo Giornale Radio. Trasmettiamo notiziari aggiornati ogni 15 minuti, senza commenti e opinioni. Scarica la nostra applicazione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!